Bene, adesso passiamo a un altro strumento promozionale che è abitato nella città di Quarenza, dalla Pinacoteca di Quarenza e dall'Istituto Comensivo Cardinio Proprio di Quarenza, vedo il dottor Gardaglio, buongiorno, con altri partner, 5 classi scuole secondarie del primo grado e mi viene da leggere questa frase che rappresenta molto che abbiamo messo nel libro, aver realizzato in prima persona un strumento di promozione industriale ci ha fatto sentire più capaci tutti noi stessi. Il progetto è vedere la città invisibile, sono stati realizzati dai percorsi dall'archeologia, addirittura alla letteratura con Tino Campana in cento anni dalla pubblicazione dei campi ottici.